benvenuti a spazio libero oggi parliamo di banche e del bail in che letteralmente vuol dire salvataggio dall'interno ossia quel meccanismo introdotto da una direttiva europea che dal primo gennaio 2016 prevede regole precise per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento ne parliamo con i nostri ospiti che saluto e ringrazio per essere qui sono elio lanutti presidente di adusbef associazione difesa consumatori ed utenti bancari finanziari e assicurativi e con noi anche daniele pesco del movimento 5 stelle capogruppo commissione finanze alla camera dunque il tema come sappiamo è di grande attualità in italia dove la crisi del sistema bancario del monte dei paschi di siena in particolare ha portato il governo a decidere con decreto di dare un sossegno pubblico straordinario a queste banche in gravi difficoltà una scelta alternativa appunto al meccanismo del bail in dove invece gli azionisti e i creditori sono chiamati a concorrere al salvataggio della propria banca lanuti allora che cos'è il bail in e perché sono state introdotte queste nuove regole europee il bail in e letteralmente è proprio criminale del risparmio cioè chi ha risparmiato c'ha i soldi sul conto corrente ha investito in obbligazioni come i poveri risparmiatori depredati delle quattro banche in risoluzione che banca etruria banca marche garichiete cari ferrari vengono espropriati con decreto del governo e pagano rispettivamente le obbligazioni subordinate le azioni obbligazioni subordinate e i depositi superiori a 100 mila euro noi usciamo da una situazione drammatica per il risparmio negli ultimi 30 anni abbiamo monitorato tutti i crack le truffe i dissesti bancari sono stati bruciati 100 miliardi di euro e mi permetta di leggere un paio di cose ossia nella prima metà del periodo fino al 1908 sono stati colpiti 238.250 investitori famiglie che hanno perso eravamo in lire 9.761 miliardi di vecchie lire 5 miliardi di euro nella seconda metà del periodo ossia dal 99 al 2016 l'attività di rapina pianificata ha coinvolto 1.379.000 famiglie per 95 miliardi di euro bruciati e perché devono pagare i cittadini i risparmiatori gli azionisti incolpevoli e i rapinatori seriali non pagano mai il conto e la banca d'italia che dovrebbe controllare non paga e la consob non paga per fortuna che c'è una sentenza della corte di cassazione chiudo subito la 23.4.18 del 17.11.2016 chi ci ascolta chi ha omesso la vigilanza paga è stata condannata la consob a risarcire quindi chi ci ascolta attivate sul sito adusb questo modulo siete stati rapinati mandate una raccomandata e avrete la possibilità di risarcire cerchiamo adesso di utilizzare questo spazio per far capire meglio ai nostri ascoltatori come poter agire in tutta sicurezza nel caso si volesse diventare probabili investitori che cosa si rischia? cerchiamo di capire innanzitutto Pesco con il bail-in si parla letteralmente abbiamo detto di un nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie quando può essere sottoposta a risoluzione una banca? una banca può essere posta a risoluzione quando le cose non vanno bene dobbiamo capire quando le cose non vanno bene in una banca quando è che non vanno bene? quando una banca ha prestato dei soldi a persone o soggetti senza le dovute garanzie perché se una banca presta i soldi e le garanzie ci sono la banca può rifarsi sulle garanzie ma se queste garanzie non ci sono è logico che la banca non può rifarsi su nulla purtroppo in Italia negli ultimi anni le banche hanno prestato continuamente hanno dato finanziamenti a persone o soggetti che non avevano queste garanzie e quindi ci troviamo con più di 300 miliardi di crediti deteriorati che sono quei crediti che non sono più tornati nelle banche purtroppo negli ultimi anni si è sempre parlato poco dei cosiddetti fidi facili i fidi facili sono questi i finanziamenti dati a chiunque e poi non si parla di chiunque ma sempre di amici o di chi ha guidato queste banche ok, senza le dovute garanzie questi fidi facili stanno rappresentando per il nostro paese un gravissimo problema c'è da dire di più perché noi parliamo di billing che sarebbe il sistema di risoluzione delle banche però le banche hanno anche un'altra cosa molto importante che va ricordata che sarebbe i coefficienti patrimoniali in pratica una banca via un comitato un comitato di Basilian, un comitato internazionale presieduto dai governatori delle banche di diversi paesi che decidono quando una banca è solvibile o no e vengono analizzati logicamente che cosa il patrimonio della banca e i soldi che ha prestato il rapporto tra queste due quantità ci dà un coefficiente e i cittadini devono andare su internet a cercare di reperire queste informazioni per capire se una banca è solida o no ebbene, purtroppo però, cosa è successo? che è intervenuto il bail-in con regole più severe per la risoluzione ma sono anche cresciuti questi coefficienti patrimoniali che hanno chiesto alle nostre banche di essere più sicure ma purtroppo non eravamo nella condizione di poter assicurare che le nostre banche diventassero più sicure Ecco, per capire bene questo meccanismo del bail-in allora, cerchiamo di capire meglio con l'aiuto di questa grafica che adesso vedremo Fonte Banca d'Italia, gli strumenti, soggetti e gerarchia del bail-in Io qui, Lanutti, vedo che i primi tra tutti sono i titoli rischiosi a sostenere le eventuali perdite cioè le azioni e le obbligazioni subordinate ci puoi dire in che modo? Allora, facciamo un esempio Ci sono due banche del Veneto Veneto Banche, Banca Popolare di Vicenza che hanno bruciato 18,9 miliardi di euro Gli azionisti erano banche diciamo, le cui azioni erano illiquide avevano un valore di 62,50 euro adesso non valgono più nulla Tu volevi un prestito, un fido? Dovevi acquistare le azioni di queste banche illiquide? Allora, questo è il problema Cosa faceva la Consob? Cosa faceva la Banca d'Italia? Questo è il problema che bisogna che la gente che sta a casa comprenda perché prima, diciamo, il risparmio sudato che può servire per un imprevisto per una malattia perché mi deve essere espropriato? Perché devo pagare? Io e il governatore della Banca d'Italia visco tranquillo non ha fatto quello che doveva fare e sta a casa Allora, chi ci ascolta? Attivassero il facsimile dell'Aviva devono pagare il conto Ecco, c'è Pesco se le risorse finora reperite non sono sufficienti a coprire le perdite cioè parliamo delle prime due voci azionisti e titoli subordinati anche le obbligazioni ordinarie sono coinvolte e siamo quindi alla terza voce della tabella qui che cosa accade? Accade che praticamente anche chi ha comprato le obbligazioni che dovrebbe essere uno dei strumenti concorre al salvataggio della propria banca si va anche ai risparmiatori che hanno sul conto più di 100.000 euro Noi in Aula quando si è deciso di approvare questa direttiva di ricevere questa direttiva ebbene abbiamo detto non si può perché si va contro la proprietà privata se si fanno diventare responsabili anche coloro che hanno risparmiato e hanno messo i soldi in banca e ci siamo stati accusati di difendere gli interessi dei ricchi ora mi dica lei se può essere plausibile il fatto di essere accusati di questa cosa ora una persona è obbligata a tenere i soldi in banca quindi non può assolutamente partecipare alle responsabilità di chi guida questa banca se le regole cambiano perché i Berlino hanno drasticamente cambiato le regole bisognava dare il tempo ai cittadini di rendersi conto del cambiamento questo non è successo non è successo nel caso delle quattro banche e non è successo neanche nel caso di Montepaschi dove avevamo un premier che continuava ad andare in televisione a dire che Montepaschi era una banca sicura una banca solida Montepaschi purtroppo solida non è adesso vedremo quanti soldi i cittadini italiani dovranno spendere per riuscire a sanare questa banca e terminiamo di commentare questa tabella perché insomma l'ultima voce diciamo abbastanza rassicura un po' i correntisti perché fino a 100.000 euro non possono essere toccati dal prelievo forzoso ecco chi garantisce per questi 100.000 euro sul conto corrente? Attualmente vi sono vi è sempre stato il fondo interbancario di tutela dei depositi ora però si sta andando verso una tutela diciamo europea su questa tutela europea non si è ancora stabilito come e quando dovrà intervenire perché non vi è ancora un vero accordo di tutela sui conti correnti un accordo europeo su questo quindi secondo me noi avevamo un fondo che funzionava abbastanza bene il fondo interbancario attualmente è con poche risorse perché sono già state utilizzate per mettere a posto gli ultimi cracchi che ci sono stati quello che però va ricordato è questo è il fatto che c'è qualcuno che decide quando una banca va bene e va male questo qualcuno è la banca centrale europea è la banca d'Italia spesso secondo noi questi strumenti sono stati utilizzati in modo non corretto grazie grazie io saluto e ringrazio i nostri ospiti Elio Lannutti e Daniele Pesco ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a qui